Giuseppe Sant'Anna Il cocktail che vuoi preparare è uno spritz, un cocktail spumoso di origine Veneto, Italia. E' un aperitivo italiano. Aggiungiamo il glielo nella coppa. Due parti di Aperol. Lo infriamo. E aggiungiamo un cava gramona, allegro, molto suavemente, senza rompere la burbuca. Le diamo una volta. Il colpe di soda. Aggiungiamo un cubito di hielo. Un po' più. E lo facciamo a decorare con la esencia di limone. Un po' più. Un po' più. Da. Anaranca. Un po' più. Pot всп messagesa circa iscriviti e radica. Con amicizionata dal pali Llach empresa. Per dubbio 20ці nelle tusparte, Per dubbio 20 metroth. Con amicizionata dal pali Llach. Grazie a tutti.